Le coordinate del male, il deficit di empatia e l'assenza di rimorso, pubblicato quest'anno con Armando Editore, è la mia opera prima ed è un testo che entra nel vivo del tema della crudeltà umana. Criminali si nasce o si diventa? Qual è l'origine del male? Che cosa spinge gli esseri umani a mettere in atto azioni crudeli e ferate, spesso senza motivazioni profonde? Questo testo oscilla tra amarezza e speranza, la speranza di poter in qualche modo intervenire sull'autore di reato, rieducarlo e l'amarezza di un campo d'ombra ineludibile e insondabile su cui non è possibile operare alcun cambiamento. Le coordinate del male, il deficit di empatia e l'assenza di rimorso, ci parla di quell'abisso, mare profondo, che ci spaventa, ma che nella sua torbida purezza è parte dell'uomo nella sua complessità.